Ha chiesto di parlare il senatore Centinaio, ne ha facoltà per dieci minuti. Grazie Presidente. Ma noi concordiamo con le affermazioni del senatore Errani quando ci dice che è un risultato di tutti. È vero collega, è un risultato di tutti. E lo diciamo con l'onestà intellettuale di cui ci è stata ricordata prima, ma con la stessa onestà intellettuale di chi prima ci ricordava ancora la famosa storia del mojito, dei pieni poteri, eccetera, eccetera. Ricordiamo che è un risultato di tutti, ma è un risultato, cari colleghi, anche di chi veniva a Milano viaggiando da Roma a fare gli aperitivi dicendo che non sarebbe successo nulla. Non è successo nulla e si è preso il Covid. Lo ricordiamo? Presidente, se cominciamo così, non va bene. Lo ricordiamo anche chi diceva che Bergamo non ti fermare per poi andare in vacanza formentera. Lo ricordiamo, è un risultato anche di chi diceva che Milano non si arrende e partecipava alla Movida. Lo ricordiamo anche a chi diceva che i pazienti che non possono essere trattati sono lasciati morire, per poi essere smentito dal fratello medico, per onestà intellettuale. Ministro, è dall'inizio della pandemia che vi stiamo invitando a una gestione più condivisa e più oculata di quello che è lo stato d'emergenza. Nessuno in questo momento sta dicendo che lo stato d'emergenza non va bene. Diciamo semplicemente che lo stato d'emergenza deve essere gestito in un modo diverso da come lo state gestendo voi. Vogliamo essere coinvolti. Vogliamo non che la minoranza sia coinvolta. Vogliamo che il Parlamento sia coinvolto, che è una cosa totalmente diversa. E quindi, Ministro, la vostra gestione lascia alcune perplessità dal punto di vista tecnico e dal punto di vista pratico. Dal punto di vista tecnico, lo stato d'emergenza è stato dichiarato in data 31 gennaio, fino al 31 luglio. Poi venite qua e ci dite che è prorogato al 15 ottobre. Poi adesso venite qua e ci dite che è prorogato al 31 gennaio 2021. Un anno di stato d'emergenza. Un anno di stato d'emergenza che va totalmente contro rispetto a quello che è venuto qua a dire il Presidente del Consiglio in data 21 maggio. Perché il Presidente del Consiglio in data 21 maggio ci dice non ci possiamo permettere di protrarre l'efficacia di misure così limitative per un periodo indefinito. Un ordinamento liberale e democratico non può tollerare una compressione dei diritti fondamentali. Non l'ha detto Gianmarco Centinaio! L'ha detto Conte! L'ha detto Conte! Però è stato così. Avete fatto così. E il risultato, Ministro e Presidente, è un caos istituzionale. Un caos istituzionale senza precedenti che ha portato i più importanti costituzionalisti a dirci Ma cosa sta succedendo nel nostro paese? Punto di domanda. Caos nei rapporti tra Stato e Regioni. Casualmente, alcune Regioni, tutto quello che facevano alcune Regioni, penso alla Campania e a Lazio, andava benissimo. Diventava un caso da seguire. C'erano altre Regioni che qualsiasi cosa che facevano non andava bene. Pensiamo alla Sardegna. Il Presidente Solinas, l'ho già detto in quest'Aula perché mi sembra, ripeto sempre le stesse cose, il Presidente Solinas trattato come l'ultimo dei fuori di testa. Stava semplicemente dicendo quello che state dicendo voi in questo momento. Confusione tra Stato e denti locali, persino tra lo Stato e i Comuni c'era confusione. Fatto sta che l'Anci, in più di un'occasione, vi ha criticati nella gestione dei vostri provvedimenti. Imbarazzante poi, Ministro, il rapporto tra il potere legislativo e il potere esecutivo. Tra il Governo e il Parlamento. Il Parlamento, un semplice ratificatore delle decisioni del Governo. Dobbiamo stare qui ad ascoltare e ad applaudire quello che decide il Governo. Ma il potere legislativo è quello che rappresenta il popolo. È quello che è stato eletto dal popolo per decidere. Non siete voi e i tecnici che ha pagato e strappagato il Presidente Conte. Siamo noi e non la minoranza, tutto il Parlamento, Camera e Senato, che dovrebbero dare le indicazioni al Governo. E quindi, Ministro, si prosegue con l'uso spudorato dei DPCM, in assenza di presupposti di diritto e di fatto. Non si rispettano nemmeno le procedure previste per i DPCM. Noi che siamo degli spettatori delle vostre decisioni. Il problema è che state trattando disposizioni che limitano le libertà individuali. Libertà di circolazione, limitata. Libertà di riunione, limitata. Libertà religiosa, limitata. Diritto all'istruzione, limitato. Libertà di iniziativa economica, limitata. Libertà personale, limitata. Queste limitazioni dovrebbero avere un rango di legge o di un atto avente forza di legge. Ok? È l'ABC. È l'ABC della giurisprudenza. L'invito che le faccio, Ministro, che faccia il Presidente Conte, è di venire in Parlamento e confrontarsi con il Parlamento. Ci sono i decreti. Ci sono i decreti, venite in Parlamento e ci confrontiamo. E poi c'è tutto il punto di vista pratico. Le vostre decisioni, le vostre decisioni, che prendete non si sa con chi, perché con noi non le prendete, magari le prendete con i vostri consulenti o con chi volete, impattano sulla vita reale, sulla vita reale dei nostri cittadini, che le subiscono e le devono subire. E quindi, Ministro, condividiamo l'idea e condividiamo la sua idea che ci vuole prudenza, ma anche prudenza nell'amministrare la cosa pubblica. Non si può amministrare la cosa pubblica come se fosse casa propria. Non state amministrando il vostro condominio. State amministrando il nostro Paese. Ed è una cosa totalmente diversa. Condividiamo l'idea del Ministro e la condividiamo e la sottoscriviamo delle tre regole fondamentali, mascherine, non assembramento e rispetto delle norme igieniche, assolutamente. E condividiamo l'idea, Ministro, e la condividiamo e la stra-condividiamo, che bisogna aumentare i controlli per punire i trasgressori. Non possiamo pensare che ci sia gente che la fa franca e che pensa di vivere nel Paese del Bengodi. Però, Ministro, pensiamo anche che se bisogna utilizzare l'esercito, l'esercito lo bisogna utilizzare per tutti, non solamente per i pensionati che non utilizzano le mascherine, anche perché arriva fuori dai nostri confini, che pensa di entrare a casa nostra e di vivere nel Paese del Bengodi. Ministro, le vogliamo ricordare però alcune cose e le chiediamo di intervenire. Scuola, ne hanno parlato tutti, oggi ne hanno parlato tutti. Non venite a dirci che va tutto bene, non potete venire a dirci che va tutto bene. Tu parli con qualsiasi insegnante e si mette le mani nei capelli. Io sfido e invito il Ministro, il Presidente del Consiglio e il Ministro Azzolina ad andare nelle scuole, ma non avvertendo prima. Selezioniamo, scegliamo tre scuole, una al nord, una al centro e una al sud e andiamo così, andiamo senza avvisare e vediamo cosa succede realmente nelle scuole. Sulla sanità, avete state prevedendo un'eventuale crisi come quella che è successa l'inverno scorso? Perché non possiamo poi arrivare a dire che non eravamo preparati, avete avuto tempo per prepararvi come il Ministro Azzolina aveva avuto tempo quest'estate per preparare l'accesso dei nostri figli nelle scuole. Commercio, industria e turismo. Il Presidente Conte ci aveva detto che nessuno sarebbe fallito e nessuno sarebbe rimasto indietro. Basta e avanza, andate a vedere che cosa succede nelle nostre strade, andate a vedere cosa succede nelle aziende, andate a vedere cosa succede nel settore del turismo, andate a vedere cosa succede nel settore della ristorazione o nei locali o chissà che cosa. Sarà il Presidente Conte forse di tasca sua ad andare a rimborsare le persone a cui aveva promesso che non sarebbero rimaste indietro. Il problema della cassa integrazione non lo cito, ma anche questo è un problema annoso. L'altro giorno eravamo con delle persone che ci dicono che non l'hanno ancora ricevuta da giugno, siamo a ottobre. Chi dà da mangiare ai figli di queste persone? Lei, Ministro? O il Presidente Conte? O chi aveva promesso che sarebbe stata pagata la cassa integrazione in tempo reale? Termino, Presidente. Ancora qualche secondo, ma visto che il Senatore Faraone ha dato minuti, le chiedo veramente... Termino con due richieste. Uno, le chiediamo di controllare le spese sanitarie nelle varie regioni italiane. Faccia operazione di controllo. Perché dalla tabella 2.17 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione otteniamo che le spese per contagiato nelle varie regioni italiane in tema di Covid. Allora, capiamo che i malati di Covid devono essere coccolati e stracurati. Ma che ci sia una regione che spende 76 mila euro per ogni malato e ce ne siano altre che spendano 14 mila o 5 mila, forse qualche domanda ce la dobbiamo fare. E se in regione Campania spendono 76 mila euro per ogni malato di Covid e in regione Calabria, non sto parlando di Bolzano, in regione Calabria ne spendono solo 14 mila. La domanda che facciamo al presidente De Luca è o ha trovato la cura miracolosa e sta spendendo chissà che cosa o i malati di Covid in campagna stanno negli alberghi a 5 stelle. Qualche domanda ce la dobbiamo fare. 76 mila euro a malato è un furto rispetto a quello che spendono le altre regioni italiane. Ci chieda al presidente De Luca dove vengono spesi questi soldi rispetto alla media di quello che viene speso in tutto il resto d'Italia. Altra domanda che l'ho fatto l'altra volta ma giustamente non mi ha risposto, ma gliela riproponiamo, visto che non lo vediamo mai, il nostro collega che è stato nominato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, il senatore Monti, in quest'ultimo mese, visto che è da agosto che stiamo in ballo a parlare del senatore Monti che è stato nominato per le sue competenze in campo sanitario, signori, è stato nominato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci chiediamo se le è stato d'aiuto o se è stato d'aiuto al nostro paese, o se è la solita nomina che viene fatta agli amici degli amici degli amici. Grazie.